Come risolvere così i problemi riguardo all'avvio su Dragon Ball Sparky 0? Ovviamente se stai avviando il gioco con driver obsoleti della tua scheda grafica ti consiglio di aggiornarli, installarli e poi una volta fatto devi riavviare il computer. Assicurati anche di scaricare aggiornamenti su Windows Update, quindi basta che scrivi qua sopra Windows Update, verifica disponibilità, aggiornamenti. Io ovviamente non ho mai problemi riguardo all'avvio o altri problemi di DirectX perché tengo sempre aggiornato. La scheda e tengo sempre aggiornati i driver sul computer. Quindi verifica disponibilità, aggiornamenti e verifichiamo qualche aggiornamento da fare. Se vai su cronologia di aggiornamenti qui ti dice quali aggiornamenti hai installato. Come puoi vedere ho installato la versione Windows 11 versione 24H2 che è veramente ottima migliorando anche le prestazioni sul computer anche per computer non abbastanza potenti però è un'ottima versione. In descrizione ti ho lasciato così la pagina su Microsoft Visual C++. Ovviamente vai a cliccare su Visual Studio 2015 fino al 2022 e abbiamo l'architettura. Per 86 e 64 questi qua sono software rilasciati da Microsoft per il nostro sistema operativo. Quindi andiamo così a scaricare e ad installare questi due driver. Modifica installazione. Modifica installazione. A me dice di modificarli perché li tengo già installati quindi devi installare questi due software. Una volta installati devi riavviare il computer. Ora passando direttamente alla scheda grafica abbiamo la scheda video e NVIDIA perché è una scheda grafica NVIDIA. Scarichi così le NVIDIA app. Scarichi la beta. La installi. E la avvi. Vai su driver. Vedi se devi fare qualche aggiornamento. Quindi driver game ready o driver studio. Driver studio è per chi usa il computer per lavorare e questo qua invece per giocare. Cerchi aggiornamenti da fare. Ultimo aggiornamento il primo di ottobre. Una volta fatto vado direttamente sul gioco. Quindi faccio mostre attribuzioni. Proprietà. Compatibilità. Disabili ottimizzazione schermo intero. Esegui questo programma come amministratore. E faccio applica. E faccio ok. Una volta fatto eseguo il programma come amministratore. Esegui comunque. Ed ecco il gioco che si è avviato senza nessun problema. O problemi di DirectX o problemi di Crash. Nessun problema. Perché se tieni sempre aggiornata la scheda. E se tieni sempre aggiornato il computer. Non avrai problemi. Ed eccolo qua. Dragon Ball Spark in 0. Per altri problemi mi puoi commentare sotto al video. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.